ciao amici di top the top benvenuti sul nostro canale oggi vi porteremo in un affascinante viaggio alla scoperta di 10 incredibili costruzioni umane che sembrano provenire da un altro pianeta queste straordinarie opere architettoniche sono un vero spettacolo per gli occhi e ci faranno domandare se potrebbero essere opera di una civiltà aliena quindi preparatevi a rimanere svalorditi e ad essere affascinati da queste straordinarie creazioni questo video non è una classifica le costruzioni sono disposte in ordine casuale sarebbe difficile creare una classifica accurata sperando che il video sia di vostro gradimento vi auguriamo buona visione e non dimenticate di fare l'iscrizione al canale e mettere mi piace cominciamo il nostro affascinante viaggio esplorando l'auditorio de tenerife una magnifica sala da concerto situata a santa cruz tenerife questo straordinario edificio magistralmente concepito dall architetto santiago calatrava incanta i visitatori con la sua struttura unica e futuristica che sembra evocare immagini di una nave spaziale o di un'astronave extraterrestre pronta a decollare verso l'infinito inserito armoniosamente nel paesaggio l'auditorio de tenerife è un vero e proprio capolavoro architettonico attraendosi agli amanti della musica che gli appassionati di design l'esterno dell'edificio è caratterizzato da linee fluide ed eleganti mentre l'interno offre un'esperienza artistica e acustica senza precedenti le maestose sale da concerto ospitano spettacoli di famosi artisti internazionali orchestre sinfoniche e produzioni teatrali regalando agli spettatori momenti di pura magia la sua acustica perfetta crea un'atmosfera coinvolgente che avvolge gli spettatori facendosi che ogni nota musicale si trasformi in un'esperienza indimenticabile oltre ad essere uno dei centri culturali più importanti delle isole canarie l'auditorio de tenerife è un'icona che simboleggia l'innovazione e la creatività umana rendendolo un'attrazione imperdibile per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo esploreremo poi la dancing house a praga un'opera architettonica sorprendente e dal design unico questo edificio è conosciuto anche come ginger and fred qualche sembra raffigurare un ballo tra due entità extraterrestri la struttura è stata progettata dall'architetto vladomilunic ed è diventata rapidamente un simbolo distintivo della città di praga la dancing house è una prova tangibile di come l'architettura possa superare i confini dell'immaginazione e sembrare provenire da un altro mondo la sua forma insolita e le linee curve eleganti rendono l'edificio una straordinaria espressione artistica inaugurata nel 1996 questa struttura etlettica è un'audace combinazione di stili architettonici l'edificio è costituito da due parti principali una torre di vetro e metallo curva e sinuosa che rappresenta la donna del duo ginger e fred e un blocco più tradizionale e rigido che rappresenta la danza dell'edificio oltre ad essere un'opera d'arte architettonica la dancing house ospita anche un hotel di lusso un ristorante e un bar con una terrazza panoramica la vista mozzafiato sulla città di praga compresa la vista sul famoso castello di praga e sul fiume moldava rende questo edificio ancora più speciale per i visitatori la dancing house è diventata un'icona della città e attira visitatori da tutto il mondo affascinati dalla sua audacia e originalità questo straordinario edificio è una tappa imprescindibile per chiunque voglia scoprire le meraviglie architettoniche e culturali della splendida città di praga esploreremo ora il metropole parasola siviglia una delle strutture linee più grandi e affascinanti al mondo questa straordinaria copertura con il suo design avveniristico e intricato sembra veramente un enorme struttura aliena creando un affascinante contrasto con l'architettura tradizionale della città conosciuto anche come le sete ombre il metropole parasol è una meraviglia architettonica che trasporta i visitatori in un mondo di fantasia e innovazione inaugurato nel 2011 il metropole parasol è stato progettato dall'architetto tedesco jürgen meyer e rappresenta un'audace dichiarazione di modernità all'interno del cuore storico di siviglia questa struttura unica è costituita da sei enormi pilastri di legno che si intrecciano e si curvano in un complesso motivo a griglia simile a un enorme rete organica il risultato è un tetto ondulato che sembra quasi danzare con il cielo e la luce del sole il metropole parasol è molto più di una semplice copertura la sua multifunzionalità è straordinaria sotto il tetto ondulato si trova un mercato coperto dove i visitatori possono acquistare prodotti locali inoltre la sommità dell'edificio offre una spettacolare terrazza panoramica che regala una vista mozzafiato sulla città di siviglia permettendo ai visitatori di ammirare l'architettura secolare della città la struttura del metropole parasol è stata realizzata utilizzando tecniche di ingegneria all'avanguardia che hanno permesso di creare un'opera architettonica leggera e resistente il metropole parasol è diventato rapidamente uno dei principali punti di interesse di siviglia ed è diventato un simbolo moderno e distintivo della città se ti trovi a siviglia non puoi assolutamente perderti l'opportunità di scoprire questa meraviglia architettonica che sembra davvero provenire da un altro pianeta continuando il nostro viaggio scopriremo il centro culturale e i darali eva baku un'opera architettonica unica nel suo genere questo straordinario edificio progettato dall'acclamata architetto zaadid incanta con le sue forme sinuose e futuristiche evocando l'immagine di una costruzione extraterrestre il design avveniristico e audace del centro culturale e i darali ev lo rende un autentico gioiello architettonico che sembra emergere da un mondo lontano inaugurato nel 2012 c il centro culturale e darali eva stato commissionato per onorare la memoria del presidente dell'azerbaijan e i darali ev e per celebrare la cultura e l'eredità del paese questo imponente edificio è un'interpretazione moderna dell'architettura a zero con una raffinata fusione di elementi tradizionali e innovativi le linee fluide e curve dell'edificio sembrano danzare nell'aria creando un'armoniosa armonia con l'ambiente circostante le pareti di vetro trasparente e le strutture in acciaio creano una sensazione di leggerezza e trasparenza rendendo l'edificio una perfetta simbiosi tra la natura e l'architetto all'interno del centro culturale gli spazi sono altrettanto straordinari e poliettici ci sono spazi per mostre d'arte eventi culturali spettacoli teatrali e concerti nonché sane per conferenze e riunioni ogni aspetto del design interno è stato accuratamente studiato per creare un'atmosfera accogliente e stimolante esplorare questo straordinario capolavoro di zaadid è un'esperienza unica che lascia un'impressione duratura ispirando i visitatori ad abbracciare la bellezza e la diversità dell'arte e dell'architettura in tutto il mondo continuando il nostro viaggio ci immergeremo nella straordinaria bellezza del tempio bianco conosciuto anche come vat rong kun situato in thailandia questo maestoso edificio si erge imponente con la sua candida brillantezza e architettura intricata trasportando i visitatori in un'esperienza mistica e surreale come se ci si trovasse in un reame divino di un altro mondo il tempio bianco è una creazione artistica senza precedenti ideato dal visionario artista thailandese kalernkay kosipipat la sua purezza bianca e i detta gli intricati delle sculture lo rendono un autentico capolavoro che incanta i sensi ispira l'anima l'edificio è avvolto da un profondo significato simbolico poiché rappresenta il cammino verso la saggezza e la rinascita nell'insegnamento del buddismo teravada mentre attraversiamo il ponte verso il tempio bianco ci sembrerà di attraversare il confine tra il mondo terreno e il regno spirituale catturando la nostra immaginazione e facendoci riflettere sulla nostra esistenza all'interno i murales dipinti a mano illustrano un mix affascinante tra tradizione buddista e icone contemporanee come superman e personaggi di film famosi questa commissione insonita riflette l'idea di guardare oltre le forme convenzionali di spiritualità e connessione tra passato e presente inoltre il tempio bianco è in continua evoluzione grazie agli sforzi degli artisti e dei fedeli che lavorano al suo restauro e alla sua espansione questo costante processo creativo lo rende un'opera d'arte viva e vibrante che continua a sorprendere e affascinare chiunque lo visiti proseguiamo il nostro emozionante viaggio esplorando l'opera house di sydney una delle icone più ammirate dell'architettura moderna questa straordinaria struttura progettata dall'architetto danese jordan utzon sembra un'ambasciata delle forme futuristiche pronta a decollare nello spazio con le sue caratteristiche vele bianche e le linee affusolate l'opera house si erge maestosa come un'incantevole costruzione aliena sospesa sulle acque spavillanti della baia di sydney inaugurata nel 1973 l'opera house è un capolavoro dell'architettura e uno dei luoghi più visitati al mondo la sua audace concezione deriva dall'ispirazione dell'architetto utzon che si è ispirato agli otta vela per creare le distintive vele bianche che sembrano fluttuare leggere sopra il mare la struttura è stata costruita in modo da fondersi in perfetta armonia con il paesaggio circostante offrendo una vista panoramica mozzafiato della baia del celebre arbor bridge e dell'incantevole skyline di sydney l'opera house è uno dei più importanti centri culturali del mondo ospitando spettacoli teatrali concerti opere e molti altri eventi culturali di fama internazionale oltre alla sua funzione di sala da concerto e teatro l'edificio ospita anche diversi ristoranti e caffetterie con vista sulla baia offrendo un'esperienza gastronomica unica l'oper house di sydney è una tappa interdibile per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo desiderosi di ammirare una delle più grandi realizzazioni dell'architettura moderna questa straordinaria costruzione con il suo fascino futuristico e la sua posizione iconica continua a ispirare e affascinare i visitatori offrendo loro un'esperienza indimenticabile all'interno di un vero e proprio capolavoro architettonico proseguiamo il nostro emozionante viaggio verso bilbao per ammirare uno dei gioielli architettonici più straordinari al mondo il guggenheim museum progettato dall'acclamato architetto frank gary questa struttura iconica è stata giustamente definita la meraviglia dell'architettura contemporanea con il suo esterno metallico ondulato e le forme futuristiche sembra proprio una creazione extraterrestre atterrata nel cuore di una delle città più affascinanti e dinamiche del mondo inaugurato nel 1997 il guggenheim museum bilbao è un esempio esemplare di architettura all'avanguardia la sua concezione è stata influenzata dalla visione innovativa di frank gary che ha voluto creare un edificio capace di rispecchiare la vitalità culturale e l'energia creativa di bilbao l'esterno metallico ondulato del museo rivestito di titanio riflette la luce solare in modo dinamico conferendo all'edificio una straordinaria varietà di colori e sfumature all'interno del museo i visitatori vengono accolti da spazi incredibilmente ampi e luminosi ideali per ospitare mostre d'arte contemporanea e opere di artisti di fama internazionale il museo è diventato rapidamente uno dei principali centri culturali del mondo ospitando una varietà di mostre eventi artistici che attirano appassionati e turisti da tutto il mondo la sua presenza ha rivitalizzato la città di bilbao contribuendo al rilancio dell'intera area e ponendo la città al centro della scena culturale internazionale proseguiamo il nostro emozionante viaggio verso l'eden project situato nella magica cornovaglia questo straordinario complesso di serre e giardini tropicali è racchiuso all'interno di enormi cupole geodetiche che sembrano uscite da un mondo alieno le spettacolari strutture dell'eden project ci affascinano con la loro somiglianza a biodome extraterrestri creando un ambiente unico e suggestivo in cui una vasta gamma di specie vegetali provenienti da tutto il mondo prosperano in armonia inaugurato nel 2001 l'eden project è un autentico paradiso per gli amanti della natura un'esperienza sensoriale unica che ci avvicina ecosistemi remoti e affascinanti all'interno delle cupole possiamo immergerci in ambienti tropicali lussureggianti deserti aridi e foreste pluviali rigogliose l'eden project rappresenta un monito e un appello all'importanza della preservazione della biodiversità sulla terra offrendo al tempo stesso una visione affascinante di come potrebbero essere le piante in un mondo alieno oltre alla sua importanza ecologica e didattica l'eden project è un'ispirazione per l'architettura sostenibile e innovativa le cupole geodetiche sono stati progettate per massimizzare l'efficienza energetica utilizzando materiali riciclati e tecnologie all'avanguardia questa iniziativa ecologica dimostra come sia possibile unire la conservazione dell'ambiente con un'esperienza educativa e coinvolgente per i visitatori l'eden project è diventato un punto di riferimento e una destinazione ambita per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo attirando persone di ogni età e cultura questo luogo magico e suggestivo ci invita a riflettere sulla meraviglia della natura e sulla responsabilità che abbiamo nel preservarla per le future generazioni ancora una volta ci dirigiamo a barcellona per ammirare l'incredibile edificio torre at bar un grattacielo di vetro e acciaio che incanta con la sua presenza audace e futuristica questa imponente struttura sembra proprio un enorme lancia spaziale pronta a decollare verso l'universo rendendo il cielo della città ancora più affascinante inaugurato nel 2005 l'edificio torre at bar è stato progettato dall'architetto francese jean nouvel e si distingue immediatamente per la sua forma cilindrica irregolare e per la sua facciata a spirale la sua impressionante altezza di oltre 140 metri lo rende uno dei grattacieli più alti di barcellona offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città e sulle montagne circostanti la facciata di vetro e acciaio dell'edificio è caratterizzata da un gioco di luci e riflessi che cambiano costantemente con il passare delle ore del giorno creando un'atmosfera affascinante e dinamica durante le ore serali l'edificio torre at bar si illumina con luci colorate trasformandosi in un'opera d'arte luminosa che aggiunge un tocco magico alla skyline della città all'interno dell'edificio si trovano uffici spazi commerciali e il lussuoso hotel catalonia barcelona plaza la vista panoramica dalla sommità dell'edificio è un'esperienza da non perdere offrendo una prospettiva unica della città che si estende fino all'orizzonte l'edificio torre a bar è diventato rapidamente un simbolo distintivo della modernità e dell'innovazione di barcellona concluderemo il nostro viaggio visitando la casa del cubo a rotterdam una serie di abitazioni cubiche impilate in modo stravagante questa sorprendente struttura è un'opera architettonica unica nel suo genere che cattura l'immaginazione con il suo aspetto distintivo le abitazioni cubiche una sopra l'altra sembrano sfidare la gravità e creano un'immagine fuori dal comune evocando l'immagine di una base aliena che si è posata in modo audace in mezzo alla città inaugurata nel 1984 la casa del cubo è stata progettata dall'architetto piet blom ed è diventata rapidamente uno dei simboli distintivi di rotterdam questa straordinaria opera d'arte architettonica ha avuto l'obiettivo di offrire una soluzione innovativa per la creazione di spazi abitativi in un'area densamente popolata le facciate dei cubi sono caratterizzate da angoli spigolosi finestre asimmetriche e colori vivaci che conferiscono all'intero complesso una straordinaria vivacità e vitalità ogni cubo è un'unità abitativa a sé stante disposta su tre piani e dotata di un'ampia terrazza panoramica sulla sommità offrendo ai residenti uno spazio esterno privato e una vista mozzafiato sulla città la casa del cubo è molto più di un'opera architettonica stravagante rappresenta una soluzione intelligente per l'uso creativo dello spazio urbano l'edificio è stato concepito per massimizzare l'efficienza e fornire una soluzione innovativa per le sfide abitative delle città moderne la casa del cubo è diventata un'attrazione turistica e culturale popolare attirando visitatori e amanti dell'arte da tutto il mondo gli interni delle abitazioni cubiche sono stati adattati per ospitare musei negozi e alloggi per i visitatori creando un'esperienza unica di immersione nell'arte e nell'architettura contemporanea queste straordinarie costruzioni ci hanno portato in un viaggio affascinante e sorprendente facendoci sentire come se fossimo stati catapultati in mondi alieni l'architettura umana ci ha dimostrato la nostra capacità di creare opere incredibili e suggestive capaci di ispirare meraviglia e stupore se il video ti è piaciuto lascia un like e condividilo con i tuoi amici per far scoprire loro queste incredibili creazioni fa l'iscrizione al nostro canale per non perdere le prossime avventure e grazie per aver visto il video fino a qui ci vediamo presto con nuovi contenuti affascinanti grazie per aver visto il video se è stato di tuo gradimento metti mi piace ed iscriviti al canale